Questo video è sponsorizzato da JLCPCB, un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati, che con tariffe bassissime permette di ricevere PCB di ottima qualità in pochi giorni. L'azienda è leader mondiale nella produzione di circuiti stampati ed usa macchinari di ultima generazione per garantire un elevato standard di qualità. Potrete ordinare al costo di soli 2 dollari 10 prototipi con un tempo di produzione di soli 2 giorni. Basta fare l'upload dei palgerber sul sito, specificare i dettagli costruttivi e le quantità e attendere. Provate il nuovo servizio di montaggio SMD beneficiando di uno sconto di 7 dollari sulle spese di montaggio. Ciao a tutti! Prima di iniziare come sempre un saluto a 6 nuovi patrons che ha raggiunto la nostra comunità. Quindi ciao a Andrea, Mattia, Fabrizio, Francesco, Sergio e Valerio. Grazie per il vostro supporto, sempre molto molto apprezzato. Veniamo al video di questa sera. Ricevo da Marco della provincia di Mantova un pacchettino che dovrei aver messo da queste parti. Eccolo qua. Si tratta di una scheda di alimentazione di un mixer Mekki. Questa scheda, ci dice Marco, ha smesso di funzionare e in diagnostica dava un lampeggio con due LED in particolare. Poi è stata tentata la sostituzione di qualche condensatore e da quel momento la scheda non è più proprio partita. Per cui andiamo a vedere di cosa si tratta. Analizziamo un po' lo schema, tentiamo la riparazione e come sempre buona visione. Ecco qui il pacchetto con i dati sensibili mascherati. Qua abbiamo la nostra scheda, bella infagottata e anche compatta. E qui sacchettino con i condensatori che immagino sono stati prelevati dalla scheda o sostituiti. Anche questa sera ci troviamo di fronte a un alimentatore di tipo switching. Cominciamo dalla parte di ingresso. Vedete qua ci sono i fili. Marco gentilmente ci ha indicato interruttore per questi due fili qui e su questi presa alimentazione. Potevamo intuirlo dai colori di fase neutro e terra. Andiamo a vedere com'è fatta questa scheda. qui in alto a destra abbiamo indicato il nome del costruttore, questa Loud Technologies e il modello che è una BP2045C31 Pro FX12V2. Vedete che c'è la spunta qui. Revisione A00. Quindi questa è la scheda di alimentazione di un mixer della Meki. Seguiamo un flusso logico partendo dall'alimentazione che arriva appunto con questi fili. Incontriamo il nostro fusibile F1 che sembra integro a vederlo così. E poi come sempre incontriamo uno stadio di filtraggio dove abbiamo dei condensatori che presi mobilmente sono in sicurezza. Quindi tra fase neutro e fase terra neutro terra. E la bobina di modo comune. E quindi questa costituisce un filtro IMI. Infatti vedete che i 4 pin fanno vedere che ci sono le due bobine avvolte e inscatolate. Qua poi abbiamo un varistore per la protezione da sovratensioni. Arriviamo al nostro ponte raddrizzatore. Condensatore di livellamento. 400V 68uF. Poi da qui parte la sezione di switching. Questo dovrebbe essere il semiconduttore di potenza. Probabilmente un mosfet che va a switchare questo trasformatore del nostro switching. Potrebbe essere un flyback viste le dimensioni e il tipo di scheda. Flyback è comodo perché per potenze fino a 100-150V A riesce a gestire in maniera efficiente e soprattutto con pochi componenti la creazione di diverse alimentazioni. Abbiamo qualche componente di potenza. Questa resistenza è un po' grande. Da qua in poi è tutta la parte di secondario dove avremo praticamente il raddrizzamento con i grossi Diodi e il livellamento con tutti i condensatori e un po' di filtraggio con una bobina probabilmente qua in uscita. Riconosciamo questo U1 che è il nostro optoisolatore che ci riporta il livello di segnale dal secondario al primario per effettuare la regolazione. Sul lato saldature troveremo probabilmente il controllo. Vedete che qua abbiamo questo integrato SMD che essendo vicino al mosfet e al magnetico probabilmente è quello che gestisce tutta la commutazione. Nella parte qua del secondario abbiamo un po' di componentistica in SMD. Qua siamo sul lato bassa tensione e finalmente arriviamo su il nostro connettore di uscita. Qua gentilmente ci hanno anche indicato le tensioni che vengono prodotte. Vedete che abbiamo una 7V, la 48V che è per la Phantom quindi essendo un mixer deve dare appunto questa alimentazione Phantom per i microfoni, la più 15V, la meno 15V riferite probabilmente a questa massa analogica e invece la 7V probabilmente è riferita a questa massa digitale infatti indicata con D. Quindi il mixer che avalle sfrutterà queste alimentazioni per il suo funzionamento. Prima di chiedere l'aiuto al pubblico o da casa sono andato a verificare in internet se si trova lo schema di questo power supply un po' per aiutarci e ovviamente si trovano degli schemi solito sito Electrotania ma del mixer completo. Il power supply non sembra così facile da trovare anche perché mi sembra il classico oggettino venduto come parti di ricambio. Molto comodo per fare un po' di business. Su questa scheda non mi sembra di aver visto dei led quindi mi sa che i led a cui si riferiva Marco sono lato mixer e quindi noi andremo a verificare l'integrità di questa scheda andando ad analizzare le tensioni di uscita e verificandone la presenza e il valore. filarsi è bene non fidarsi è meglio quindi andiamo a verificare se il fusibile è integro perché a prima vista sembra esserlo ma andiamo a fare un test di continuità semplicemente toccando le sue estremità ok fusibile buono. Beh questo già si fa pensare che non c'è qualcosa di grave che è accaduto almeno in questa parte. Cominciamo dando un'occhiata ai fili che vengono dall'interruttore sono questo marrone e questo marrone bianco. Il marrone è in cortocircuito con il filo dell'alimentazione per cui quando l'interruttore viene chiuso l'alimentazione viene portata su questo filo e poi direttamente al fusibile. Quindi per le nostre prove adesso potremo mettere in corto l'interruttore come se fosse sempre spinto e andiamo a vedere dando tensione che cosa accade. Per mettere in corto questi due fili quindi utilizziamo questi due fastone maschi con questo cavetto che andiamo a chiudere direttamente sui contatti quindi andiamo a mettere un contatto da questa parte e uno dall'altra. Andiamo ad alimentare la scheda tenendo sotto controllo la tensione sul condensatore elettrolitico che andiamo a prelevare con i coccodrilli in questo punto e negativo e in questo punto. I coccodrilli dobbiamo essere sicuri che facciano bene presa e come sempre attenzione perché qua maneggiamo alte tensioni. Comunque saliremo gradualmente con la tensione facendo uso del variac quindi andremo a mettere questa spina in uscita dal variac e andremo a far salire la tensione lentamente. Come sempre lo zero del variac non è proprio zero abbiamo con la manopola tutta a zero una tensione continua di circa 3 volt. Saliamo con la tensione lentamente 12 volt lo scopo è vedere se al primario la tensione la tiene come presumibilmente dovrebbe essere perché il fusibile è integro questo ci fa pensare che comunque al primario non ci siano problemi. Possiamo andare su anche un po più decisi direi che siamo già a 100 volt non ci sono grossi problemi. Quindi arriviamo al massimo previsto di 320 volt continui livellati. Ok quindi la tensione sul condensatore elettrolitico arriva. Una volta rimossa l'alimentazione andiamo a scaricare la capacità e quindi la tensione residua quindi con una resistenza del valore di 50 ohm e opportuno vattaggio andiamo direttamente sui pin del condensatore. Ok così siamo sicuri che non ci sono tensioni pericolose quando andiamo a maneggiare la scheda. Ora che abbiamo appurato che abbiamo la tensione a 320 volt andiamo a osservare la tensione VDS del nostro mosfet. Questo componente infatti è marcato come SVF4N65T che è un mosfet da 650 volt 4 ampere e una bassa capacità di gate come viene detto nel datasheet. È opportuno ricordare che per fare queste misure è indispensabile l'isolamento verso la terra per non creare dei guai con l'oscilloscopio. Io di solito faccio in modo di alimentare la scheda con una tensione che proviene da un trasformatore di isolamento e quindi il variac con il quale prima abbiamo alimentato la scheda ha un trasformatore di isolamento a monte. Questo ci permette di collegare il nostro oscilloscopio anche col cocodrillo di massa direttamente sul source perché l'oscilloscopio è a terra ma tutto il resto è isolato quindi l'unico effetto che faremo è quello di portare a terra questo piedino ma visto che è tutto isolato questo non è un problema. Viceversa se alimentassimo da rete non isolata e utilizzassimo l'oscilloscopio collegato a terra andremo a creare un bel guaio perché andremo a richiudere tramite l'oscilloscopio la fase direttamente sulla terra. Diamo tensione e come ci potevamo attendere la tensione fra drain e source del nostro mosfet è di 300 volt e poco più senza nessun tipo di switching quindi il mosfet è fermo. Per rendersene conto essere sicuri che magari non ci siano delle piccole commutazioni veloci mettiamo l'oscilloscopio in modalità single quindi il trigger facciamo in modo di metterlo in single e come vedete non triggera e questo significa che non c'è nessun tipo di commutazione sulla 300 volt. Questo è meglio farlo perché magari occhio nudo sembra una 300 volt continua poi in realtà ci sono delle micro conduzioni ma non è questo il caso qua il mosfet è completamente spento. Questa è la condizione fra gate e source del mosfet. Come potevamo attenderci è zero e quindi non viene pilotato il mosfet. Indaghiamo un po' sul circuito di controllo del mosfet e quindi con il microscopio andiamo a vedere chi è il pvm controller perché occhio nudo si fa un po' fatica. Qua è importante l'angolo della luce per leggere il rilievo del marchio sul componente. Comunque dovrebbe essere G27288 OB2269 CP. Ecco il datasheet del pvm controller prodotto dalla light on on right electronics OB2269 utilizzato su applicazioni flyback per potenze sopra i 20 watt. Questo controller è ad alta efficienza infatti quando il carico è basso viene detto che è applicato un burst mode. Questo è lo schema tipico di applicazione dove riconosciamo il nostro controller a pilotare il mosfet. Abbiamo l'innesco direttamente dalla v-in quindi dalla alta tensione con una resistenza di potenza viene dato l'innesco. Poi una volta che il flyback è partito si alimenta tramite la vdd. Abbiamo un pin dri che serve per settare la frequenza del pvm interno. Un pin rt collegato a un ntc per cui nel caso di sovratemperatura questo pin va basso e il pvm si spegne. Poi abbiamo i feedback quindi il feedback di tensione che è questo pin fb prelevato da l'opto isolatore e il pin di sense che è quello che sente la corrente che passa sul mosfet. Quindi una resistenza in serie al source del nostro mosfet crea la tensione per il feedback di corrente. Siccome non abbiamo visto tensione fra gate e source cerchiamo di vedere come mai. Allora questo è il piedino di gate, drain e source del nostro mosfet. Il gate viene pilotato con questa pista che arriva su questo diodo d7 il quale poi è collegato da quest'altra parte su questa pista che segue e arriva fino al piedino 8 del nostro pvm controller che infatti è il pin di gate quindi è quello che dovrebbe accendere e spegnere il nostro mosfet. Quindi andiamo a vedere se in effetti in uscita dal piedino 8 del nostro pvm controller esce il segnale di gate. Andiamo a sentire direttamente la tensione sul pin 0 volt quindi il pvm controller non sta buttando fuori il comando di accensione del mosfet. Vediamo ora la tensione sul piedino 3 che dovrebbe essere la v in quindi l'alta tensione che proviene direttamente dalla livellata del nostro condensatore elettrolitico. Anche in questo caso abbiamo zero quindi è corretto che il pvm controller non sia acceso perché non gli sta arrivando tensione da il lato v in. Il piedino 3 v in è questo qua. Seguiamo la pista come vedete questa pista arriva qua su questo diodo. Poi da quest'altra parte abbiamo la catena di queste resistenze che sono di valore elevato. 124 in smd dovrebbe essere 120k quindi abbiamo una resistenza, 2, 3, 4 e poi arriviamo qua. Questo è il positivo del nostro elettrolitico quindi la 300 volt rispetto a quest'altro punto. Quindi quando si accende la 300 volt dovrebbe arrivare tramite queste resistenze su questo diodo e poi qui. Andiamo a seguire la catenella di queste resistenze per vedere se sono integre e se anche il diodo è buono. Verifichiamo le nostre resistenze cominciamo da R108 quindi vediamo col multimetro 120.4 questo è ok. R109 questa indica 115k ma comunque la supponiamo buona. R110 devo toccare bene ecco qua scusate 118k va bene. R111 117k quindi queste quattro resistenze sono buone. Andiamo a vedere il diodo. Mettiamo il multimetro come prova giunzione. Ok allora essendo il diodo orientato dal positivo al negativo mi aspetto l'anodo da questa parte e il catodo a qua. Quindi dovrei vedere una barretta qui. Ad ogni modo andiamo su i due terminali estremi. Questo me lo dà aperto e questo spiega anche perché non vedo nessun tipo di tensione perché le resistenze sono buone e qua la 300 volt l'avevo misurata. Ecco disaldato il nostro diodo. La disaldatura può non essere facilissima a volte perché vedete che mettono della colla qui sotto sul corpo del componente. Quindi bisogna scaldare bene le pad e poi fare un pochino leva e il componente dopo un po' viene via. Non ho in casa dei diodi smd con quel package per cui utilizzo un 1N4007 che tiene 1000 volt e lo saldo direttamente fra la pad della resistenza dell'ultima della catena e il pin 3 praticamente. Questa volta al pin 3 abbiamo circa 9 volte e mezzo però è tutto fermo. Il pvm controller non va il mosfet è fermo. Ho controllato tutti i componenti nella zona del pvm controller e tutto mi sembra regolare cioè le giunzioni sono buone dei vari diodi qui intorno anche i condensatori mi sembrano tutti ok e quindi il maggiore indiziato è proprio il pvm controller che anche a fronte di una tensione in ingresso non fa partire in nessuna maniera l'oscillazione al gate. Tra l'altro il fatto che questo diodo si sia aperto mi fa pensare che possa essere circolata una corrente proprio su questa maglia che ha compromesso anche lui stesso. Allora mi sono messo a cercare dei pvm controller equivalenti perché ovviamente lo b2269 non ce l'ho in casa. Ho trovato questo SG5841 che sembra essere un clone infatti andando a guardare sia il circuito di riferimento che è esattamente uguale con lo stesso pinout sia i valori indicati dentro questo datasheet sembra essere proprio equivalente. Inoltre nella ricerca degli equivalenti mi sono imbattuto in questa presentazione UTC semiconductor e andando a cercare lo b2269 ho trovato in questa presentazione che viene dato come equivalente del UC3849 che è decisamente più famoso anche se andando a fare la comparazione coi datasheet non mi sembra che siano esattamente pin to pin compatibili. E quindi adesso cercherò di procurarmi esattamente quell'integrato ob2269. Nel frattempo magari vi chiedo se avete dei consigli da guardarmi su equivalenti che possono essere più facili da reperire fatemelo sapere nei commenti. E quindi con questo il video termina qua. Come sempre se vi è stato utile o vi è piaciuto un bel pollice in su io vi saluto ciao e alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!